Ci sono cestoni, ci sono in mezzo ai scogli, come fate? Ci sono spagate, come fate? Sì, le ostri che vengono contenute in queste nasse, che sono sospese in mare, legate a delle cime, ancorate sul fondo e tenute in superficie da delle voie di galleggiamento. Quando vengono prodotti in un anno? In un anno, quest'anno, arriveremo a circa 3.500 quintali. Grazie Matteo, grazie ancora e in bocca al lupo per tutte queste ostri, che spero che i cittadini di Manfredonia riescono a capire quel valore aggiunto che tu hai dato a questa bellissima città. Grazie, noi siamo con il presidente, Nunzio Stoppiello, presidente del mercato ittico di Manfredonia. Tutto questo pesce che è tutto pescato qui a Manfredonia? Sicuramente è pescato dai nostri pescherecci. Branzino, rombi, triglie, mazzancolle, merluzzi, gamberi, mormore, guardacoppi, cote pescatrici, polipi veraci, seppie, mega, mega. Ci sono tutti le neonata addirittura. La neonata di Bianchè è la marineria più importante per la produzione della neonata. Ma quanto viene prodotto di tutto questo pesce? Cioè, viene prodotto tantissimo. Abbiamo una delle marinerie che ha dei pescati più alti, perché ha una diversificazione dei pescherecci, che possono lavorare in tutta la fascia di mare, che parta dalla costa italiana fino ad arrivare a quelle slave. Il nostro prodotto va in tutta Italia. È un prodotto di estrema qualità, che purtroppo oggi in Italia siamo invasi di prodotti di importazione su gelati, decongelati, di tutte le maniere. Quindi noi stiamo, come consorzio del mercato ittico, ipotizzando un minimo di lavorazione del prodotto, proprio per andare incontro a quelle casalinghe, che oramai non hanno più quell'abitudine a trattare il pesce. Nel Foggiano si dice che non ci sia casa, che non sia abitata da uno scazzamorile. Un colletto dispettoso che sconvolge il sonno, sedendosi sulla pancia, fa cadere i panni stesi, spaventa il vostro gatto o nasconde gli oggetti. Cazzamorile è un folletto, è un folletto che arriva sempre di notte, ed è un personaggio scherzoso, molto scherzoso, fa molti dispetti, però ha un difetto. Se gli togli il cappello dalla testa, lui gli può chiedere qualsiasi cosa. Cosa gli si può chiedere? I soldi. Grazie ancora. Prego, grazie. Grazie a... Ma noi abbiamo l'operatrice turistica, Rosemary Valenti. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Lo scazzamoriglio o il folletto, si trova solo nel Foggiano o abita anche in qualche altra città? Sicuramente, a parte nel centro meridione, dove poi Napoli, la figura del monacello napoletano è quella più famosa, senz'altro, ma lo troviamo anche nel Veneto con il nome di Scalbadelo, che è un folletto particolarmente dispettoso, si nasconde nei boschi, ma lo troviamo anche nella cultura inglese, si chiama il Boggart, che si nasconde nelle crepe delle case e negli anfratti degli alberi, quindi sempre con lo stesso significato. Ma da queste parti ci hanno detto, vuoi i cocci o vuoi i soldi? Vuoi i cocci o vuoi i soldi, sicuramente. Vuoi i cocci o vuoi i soldi? Cioè, vuoi i cocci, niente, è roba da mangiare, è chiaro che la gente dice che vuole i soldi. Ma lo scazzamoriglio può portare fortuna? Sempre. Manfredonia è il comune più grande del Gargano, ma è anche la porta d'ingresso del Parco Nazionale del Gargano, un posto ideale per fare sporte, a contatto con la natura e la corsa è forse il modo migliore per apprezzare l'ambiente, gli animali intorno a noi. Saverio Serlenga, giornalista, correndo nella zona umida del Lago del Salso, cosa possiamo vedere? Sì, l'Oasi Lago Salso, diciamo che è proprio il biglietto di Oasi Lago Salso, un'oasi, una delle zone umide più importanti d'Europa, non solo d'Italia, la porta naturale del Parco Nazionale del Gargano, lì ci nidificano tante di quelle specie di uccelli acquatici, come il gobbo rugginoso, ma la stessa cicogna, il fenicottero rosa, in pratica c'è da vedere davvero tanto. Saverio, ci sono altri due posti incantevoli dove fare sporte, la fraccione montagna della foresta Umbra. È una fitta foresta, dalla parola ombrosa, ecco il nome di Umbra, quindi non ha nulla a che vedere con la visione Umbra. Cosa affascina tanto di questi posti? La foresta Umbra è il luogo più fresco del Gargano, 11.000 ettari di bosco, dove in pratica ci si può andare in qualsiasi periodo dell'anno per prendere una boccata di aria fresca, ma anche per percorrere i numerosi sentieri e per farci anche esporto all'aria aperta. Dopo aver fatto una bella corsa abbiamo bisogno di recuperare energie. E magari ci andiamo a mangiare una bella farrata. La farrata? La farrata. La farrata. Andiamo a scoprire. Che cosa state dicendo? Stiamo dicendo della farrata calda. È un rustico di Manfredonia. Io invece adesso lo vado a scoprire come si fa. Lo sai? La farrata. Ma si mangia così in mezzo alle vie? Sì, noi andiamo in giro per la città dalle 4 di mattina. Facciamo tutti il giro di Manfredonia per portare la farrata a casa delle persone. Buongiorno, come ti chiami? Sono Marianna. Fammi vedere. Sì. Dunque, sembra di cano duro? Allora no, farina e acqua per la pasta. Poi, allora, il ripieno è composto dalla ricotta di pecora, il grano, la menta maggiorana, il pepe, il sale e la cannella. Allora, facciamo una sfoglia sottile e ricaviamo dei diametri di cerchi diversi, così. Poi ci mettiamo sopra un po' di composto. Sì. In questo modo. Quanto tempo viene messo in forno? Una ventina di minuti, massimo mezz'ora. Poi dipende dal forno. Cioè, praticamente, però una volta mangiato questo facciamo antipasto il primo e il secondo. Anche. Il torlo dopo, sì, così. Ecco. Si fanno dei fori così e quello è il risultato finale. Sono dolci o salati? No, no, è un rustico. Solamente salate? È salato, non è dolce. Grazie. E siamo qui in compagnia di quattro associazioni, però vengono rappresentate solamente tre perché il quarto andava a mangiare, aveva fame. Siamo in compagnia di Giovanni Aspro. Scusami, Giovanni, chi vincerà quest'anno questa manifestazione? Ma siamo sportivi, venga il migliore. Chi ha vinto l'anno scorso? Sottoscritto, ha fatto il primo posto e che seguo con l'altro che manca, diciamo. Matteo? Trotta. Trotta. Scusa, Matteo, ma ogni associazione quanti componenti siete? Beh, dipende. Ci sono periodi in cui siamo sette, otto persone, diciamo in periodi quelli iniziali. Poi diventiamo trenta, quaranta persone. Muscatiello, Maria Grazia. Maria Grazia. Scusami, ma sei come loro che sei... Magnanima. Magnanima, sì. No, 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 vinciamo noi. Ah, brava, grazie. Prego. E qui, eccoci qua, a Manfredonia non vengono prodotti solamente farrate, ma qui siamo in compagnia di Michele Di Giasio Slow Food. Sei governatore? Sì, della condotta di Manfredonia. Scusami, avete degli ottimi formaggi? Sì, qui possiamo vedere le mozzarella di bufala che è tipica del nostro territorio perché viene qui allevata la bufala nelle nostre pali. 100% latte di bufala? 100% latte di bufala. E anche stupendi canestrati pugliesi e caciocavalli di latte podolica. Questo latte podolico è della nostra vacca tipica, molto rustica, che ha un latte molto giallo, ricco di proprietà... È vero, infatti la podolica è solamente al sud. Solamente al sud perché è una razza molto rustica poiché in questi territori è l'arsura a fare la padrona. Michele, voi fate un formaggio con il burro dentro. La manteca. La manteca non è un nome spagnolo? Sì, deriva da queste colonizzazioni aragonesi e spagnole venute del 400. Scusa, Michele, apri un po'. Qua, spacca per così però. No, no. Eccoci. Eccola qui, guardate qua. Guardate che roba. Che meraviglia. Perché è profumo. Scusa, assaggiamo. E viva Manfredonia! Michele, andiamo a parlare della gastronomia locale qui a Manfredonia. Michele, la ciambonta? La ciambonta, sì. Che è un piatto tipico di Manfredonia fatto con il pescato di sciabbica che è una pesca che ci permette di pescare il pescato minuto. e in questo caso la particolarità sta nel fatto che si decusta questa zuppa di pesce con la cipolla a parte cruda con crostini di pane e possiamo vedere che qui ci sono canocchie, gallinele d'acqua Cioè, scusa Michele, questa sarebbe una porzione? Qual è la porzione adesso per farla vedere? Però non è proprio quella, insomma, è un po' più piccola. Scusami, tu sei lo chef? Sì. Come ti chiami? Cavallaro Angelo. Scusami, ma viene tranciato il pesce o viene diventato intero? No, intero, solo qualche pesce viene tranciato tipo quelli più lunghi. Quelli più lunghi? Sennò basta così. No, sennò intero, va bene intero. Fondo di aglio. Questo qui che cos'è? Questa è la favetta fatta con rape e fave sembra il pane tostato, prima di tutto e queste fave che sono tipiche anche nel nostro territorio che sono fave di carpino. E noi, cari amici di Sabato Domenica Village e da Manfredonia abbiamo parlato di tutta dalla porta del Gargano, abbiamo parlato dello Scalsamurillo, abbiamo parlato della Ciambotta, della Farrata, abbiamo parlato del Delfino, del Carnevale, dell'ambiente, del territorio qui a Manfredonia. È una città straordinaria. Dal vostro Gianfri, a presto. Ciao a tutti.